Collochiamolo un po' a questo calcio laterale. Non lo vedete praticamente mai, se non nelle arti marziali, nelle quali non essendoci una meritocrazia tra i colpi, cioè porto avanti quello che funziona, accantono quello che non funziona. Nello sport questo non accade. Nell'arte marziale o una cosa funziona o non funziona, c'è una cultura da conservare, c'è un bagaglio tecnico storico da portare con sé, perché fa parte dello studio di quell'arte marziale. Nello sport da combattimento come il vostro nel sandà, ma anche se guardate la Thai Box, se guardate qualsiasi sport da ring, non lo trovate il calcio laterale gamba dietro. Sto parlando di questo colpo ragazzi. Sul ring da un certo punto in poi il combattente usa quello che funziona e il calcio laterale gamba dietro non lo vedete perché non funziona, a meno che ci sia un accorgimento. Quindi, guardate bene, jeb diretto, il mio calcio sulla coscia non è tirato frustrato, questo è un calcio circolare, io devo tirare il low kick, l'abbiamo studiato la settimana scorsa, si tira gamba tesa, prima arriva l'anca, poi arriva la coscia, il ginocchio e poi la tibia. In quella maniera partite, se notate che dopo due o tre volte che l'avete tirato, che lui inizia a ferrare o a bloccare, non potete più tirare il low kick, perché con due o tre bloccaggi vi siete giocati la tibia. Allora, quando sto quasi a contatto, la sfilo. La sfilo. Sono qui la sfilo. Questo sfilare la gamba fa sì che lui riesce a ferrarvela e voi sfilandola invece state caricando il calcio laterale. Ma non pensate già a un calcio laterale, perché se già pensate al calcio laterale andrete a fare così, come si dovrebbe fare, ma nessuno ci casca. Se tu carichi un calcio laterale in questa maniera, tutti lo vedono. O vi chiudono la distanza e vi colpiscono, o fanno un passo indietro e vi levano il calcio laterale, e vi danno un pugno in bocca o vi fanno un low kick sulla gamba d'appoggio. Quello che dobbiamo fare invece è andare avanti, andare a dargli proprio lì la gamba. Gliela vado a dare proprio lì, il low kick. Glielo do, ma poi lo sfilo per caricarlo. E lo carico qui su. Lo vado a colpire e poi ricarico. Ma deve passare tesa, ragazzi. Come faccio a sapere se la sto tirando bene? Vedo se quando è in linea con la coscia, la mia gamba è stesa. Vado a colpire, richiamo e poi colpisco col calcio laterale. Piano piano lo fate sempre più veloce, vi scaldate e poi tirate questo calcio laterale. Allora Enrico, va bene? Credo che tu sia abbastanza sciolto per poterlo tirare un po' più in alto. Forza ragazzi, mantenete il ritmo. Dai Francesca, spingi, spingi. Matteo, forza. Dai, ruota il tronco, Alfredo. Vuoi imparare a combattere e vincere nel sandà? Sono Danilo Capuzzi, il presidente della famosa Otsuga Club. Ho vissuto per 26 anni dentro la mia palestra perché volevo diventare il migliore nella mia disciplina. Sono conosciuto infatti per aver vinto 106 incontri e per essere quindi l'atleta più titolato in Italia nel sandà a contatto pieno. Vuoi sapere come ho fatto? Unisciti ai miei studenti, fai una lezione gratis con me, datti questa opportunità. Clicca il link che trovi in descrizione.